Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale dove parleremo di storia, filosofia e varie umanità. In questo primo filmato ci occupiamo di un personaggio che ho scoperto quasi occasionalmente durante le mie molte letture. Si tratta di Jean Meslier. Chi era costui? Costui era uno sconosciuto prete di uno sconosciuto paese disperso nelle Ardenne francesi. Qualche tempo dopo la sua morte venne portato alla ribalta grazie al ritrovamento quasi fortuito della sua unica e ponderosa opera letteraria. Tutti i dettagli sono nel libro che ho scritto su di lui e che vi mostro. Jean Meslier nacque il 15 giugno 1664 a Meserny, un piccolo paese di un comune francese nel dipartimento delle Ardenne. La regione si trova a confine con la Fiandra e con l'Usseremburgo. È un punto di passaggio per il nord e per l'est ed era particolarmente importante per il transito degli eserciti che attraversavano quelle regioni distruggendo, deperdando, confiscando cose, animali, persone e lasciavano una scia di sangue, distruzione e povertà. Quei secoli erano particolarmente tormentati da numerose guerre ma anche qui non è molto cambiato con oggi. A Meserny dicevamo nacque jean e iniziò quando ebbe l'età giusta la scuola nella parrocchia del paese. Il parroco era un uomo anziano severo però colto che si accorge subito delle qualità intellettuali del ragazzino e cerca di convincere i genitori a farlo studiare. Il ragazzino ha ormai quasi dieci anni e quindi ora che comincia a pensare al suo futuro e soprattutto che comincia a contribuire al bilancio familiare. Però i genitori e anche il curato hanno capito che quel ragazzino è timido, è introverso, poco avvezzo all'uso della forza e incapace di usare ogni tipo di violenza. Cosa farà della sua vita? Al primo scontro sarà sicuramente sopraffatto, perderà non solo i suoi beni ma probabilmente anche la vita. Il curato propone una soluzione. Portiamolo in seminario a Reims. Potrà studiare, anche studiare approfonditamente e soprattutto sarà al sicuro sia durante il suo soggiorno in seminario che anche poi in futuro se deciderà di continuare a fare il prete. Jean Meslier con un pacchetto viene spedito al seminario di Reims e scriverà nel suo libro che si trattava di uno stato di vita più dolce, più pacifico e più onorevole di quello degli uomini comuni. Inoltre si adeguava ai desideri di suo padre, però senza gusto per lo stato ecclesiastico. Meslier parte, dicevamo, nel 1675, ha 11 anni e ha appena fatto la prima comunione. Ricordiamo per inciso che nel XVII secolo la maggioranza di coloro che erano destinati a sacerdozio si avviava a questa carriera con la guida del parroco del villaggio. Il clero era composto da due fasce, un alto clero e un basso clero. Nel basso clero c'erano le persone senza gradi nobiliari. Questi erano destinati ad un'istruzione superficiale per coprire l'attività delle piccole parrocchie. È ovvio che questi preti poco si dedicavano alla cura delle anime. Quasi tutti avevano intrapreso quella carriera per interesse economico, ignoranza, inerzia e pigrizia. E aggiungerei anche di coderdia, un po' come Meslier. Che compiti avevano? Celebravano la messa, ascoltavano qualche confessione. Saltuariamente c'erano le celebrazioni di matrimoni, funerali e tutti quegli eventi della vita sociale e religiosa della parrocchia. Però il prete era in una posizione sicura, tranquilla, al riparo di ritorsioni politiche e militari e con una rendita, anche se modesta, ma garantita dalla decima che era l'appannaggio di quella determinata parrocchia. Stranamente, per quanto Meslier sia di origine plebea, studia la filosofia e la teologia. Arriva a conoscere bene il latino, forse anche il greco, e resta in seminario per quasi quindici anni. Quindi, presumiamo che abbia fatto studi classici approfonditi e, forse, abbia conseguito anche il titolo di teologo. I suoi insegnanti evidentemente devono avere espresso pareri favorevoli. Come accenno e specifico meglio nel mio libro, Meserny distava 65 chilometri da Reims. All'epoca il viaggio non era particolarmente agevole, ci volevano un paio di giorni per andare e per tornare, con un costo intrinseco significativo, a cui c'era anche il costo per i cibi e per il soggiorno. Di conseguenza si presume che gli incontri con i familiari fossero molto rari o quasi assenti. Non si conosce nulla sullo stato d'animo di Jeanne, ma viene fatto di pensare che avesse una discreta dose di indifferenza e soprattutto uno scarso amore per la famiglia, per cui si rassegna facilmente alla lontananza. È una specie di orfano abbandonato nel seminario. Questo inciderà notevolmente sia nei rapporti con la sua famiglia che nei rapporti umani in genere. Il seminario è però un'istituzione privata. Allora, come oggi, c'è una retta ben precisa da pagare. Chi pagava la retta di Meslier? Non ho trovato nessun documento su questo argomento, non ho trovato nessuna risposta adeguata. Per cui nel libro ipotizzo due soluzioni. Una, quella meno probabile, è che fosse uno studente talmente bravo da beneficiare di particolari attenzioni e quindi da beneficiare anche di una specie di borsa di studio, concetto inesistente all'epoca. Molto più probabilmente presumo che dedicasse una discreta parte del suo tempo ai servizi domestici, come la pulizia delle camerate, delle cucine e dei campi, in modo da contribuire al pagamento di una retta che potremmo definire quasi in natura. In seminario, Jeanne si immerge nella ritualità delle diverse cerimonie. Preghiera, canto, musiche sacre, processioni, paludamenti più o meno sfarzosi. E quindi sente di appartenere ad una fetta di società che ha la facoltà di valutare e insegnare la verità. Ciò lo affascina. E per qualche anno vi partecipa sicuramente con passione e con devozione. Tutti quei riti ripetitivi, incensi, musiche, cori, litanie, lo affascino e lo cullano. E qui inizia, ovviamente, come in tanti altri casi, un plagio lento e continuo in cui il rito, la precedenza sui contenuti della religione stessa e quindi sulla verità. Però Meslier ha una mente particolarmente acuta. Approfondisce la conoscenza dei classici, dei filosofi antichi e questi insegnamenti religiosi cominciano a sembrargli vuoti e superficiali. Percepisce qualcosa di falso e di sterile, che non riesce a identificare, ma che introduce un parlo nella sua mente. Non trova però nei libri sufficienti risposte. Allora fa un tentativo di dialogo. Cerca di confrontarsi con i suoi compagni di studi, che però sostanzialmente lo snobbano. Lui è un plebeo, loro per buona parte vengono da famiglie e nobiliari. Ma domande di Meslier sono, dove sono le prove dell'esistenza di Cristo? Quale storico ne riporta gli eventi della vita? I Vangeli da chi sono stati scritti? Ma qual è la loro veridicità? I miracoli del Vecchio e del Nuovo Testamento sono reali o come devono essere interpretati? E perché devono essere interpretati in quel modo e non altrimenti? I compagni di classe lo evitano. Ma queste cose escono dalla loro cerchia, arrivano all'attenzione dei superiori e degli insegnanti e non è da escludere che Jeanne venisse severamente redarguito, forse anche punito e allora c'erano le punizioni corporali. È probabile che almeno in modo epistolare i genitori siano stati avvisati. Meslier scrive «In questo posto ho un tetto, un vestito, cibo discreto e soprattutto i libri e l'insegnamento. Posso non condividere le balle che mi raccontano, ma dovrò tenerlo per me. Che mi importa di cercare conforto e discussione con gli altri, io parlerò sempre e solo con me stesso. D'ora in poi sarò un falso discepolo perfetto e farò esattamente quello che si aspettano da me». Così passano gli anni. Passano gli anni e Meslier vive in questo stato di falsità. Professa una fede totale adamantina che è totalmente falsa. I genitori evidentemente si sono tirati fuori e evidentemente gli hanno detto «abbassa la testa e obbedisci» anche perché se esci dal seminario e se prendono in considerazione queste tue idee, esci dal consesso religioso. Chi usciva, chi professava, chi non professava la religione dominante era automaticamente privato dei diritti politici per cui veniva escluso dalle carriere pubbliche, ma anche dei diritti civili. Diritti civili che consistevano nella perdita della libertà di domicilio, di transito, di professione, di proprietà. Questo è quello che succedeva agli ebrei e questo è quello che succedeva sia nei paesi cattolici che in quelli protestanti. Comunque sia, con tutte queste difficoltà non indifferenti dal punto di vista psicologico e umano, passano 15 anni. La vita nel seminario si conclude e il 29 marzo 1687, all'età di 23 anni, viene nominato su diacono. Il 10 aprile del 1688 riceve la nomina di diacono a Reims. Il 18 dicembre, sempre del 1688, viene consacrato sacerdote a Chalon-sur-Marne e, dopo qualche giorno, il 7 gennaio 1689, riceve la nomina definitiva come curato a Etre-Pigny e Balev. Jean Meslier parte per queste sue destinazioni e vi resterà per 40 anni. Resterà in questi due paesini fino a quando raggiungerà l'età di 65 anni e morirà attorno al 30 giugno 1729. I due paesini sono a 25 km da Meserny, che è la città di origine della sua famiglia e di domicilio della sua famiglia. Però questo non viene mai detto nelle sue memorie. Il paese di origine e la sua famiglia sono su un altro pianeta, non esistono più. Questi due paesi sono piccolissimi, analoghi, sempre nell'Ardenne ovviamente, analoghi al suo paese di origine. C'è la solita chiesetta, la canonica, il castello del Signore, che all'epoca era un tale Antoine de Touilly, che era cavaliere, signore di Cléry, signore di Saint-Martin-sur-Barre e di Pouilly e soprattutto era proprietario dei terreni, delle case, delle persone e del bestiame, come era la regola di quel tempo. I due paesini distavano poco meno di due chilometri uno dall'altro. Oggi sono collegati da una stretta strada, all'epoca da uno stretto sentiero. Meslier faceva questa passeggiata alcune volte durante la settimana. Era una passeggiata di 20 minuti da farsi sotto il sole, sotto le frequenti piogge o sotto le altrettanto frequenti nevicate invernali. Il paesino era composto, come risulta da un censimento del 1700, da 37 fuochi, che corrispondono circa 150 persone. Il nuovo curato è giovane, è volonteroso, viene accolto bene dalla popolazione del luogo, che lo prende subito in simpatia, gli si fa attorno e lo aiuta nel disbrigo delle sue numerose necessità personali. Quali erano le sue necessità? Doveva tenere pulita la chiesa, mantenerla, fare la manutenzione, fare altrettanto con i due cimiteri, curare e mantenere la piccola parrocchia. Ma poi c'era anche il problema della cura dei vestiti, la pulizia dei vestiti stessi, rammendo la creazione e il mantenimento di un piccolo orto e di un piccolo pollaio che gli servivano per poter mangiare e i pastri doveva procurare personalmente. Merslie non si preoccupa molto, se la cava bene, ha fatto un lungo e pesante tirocinio in seminario. Nel frattempo il feudatario ha modo di esprimersi favorevolmente nei suoi confronti e lo scrive all'arcivescovo, ma anche l'arcivescovo, che nell'arco dei quarant'anni farà ben sei ispezioni personali, manda comunque degli emissari che danno un parere positivo. I parrocchiani gli sono vicini e considerano che è un poveretto. È un poveretto come noi, abituato al lavoro fisico. Basta guardare le sue mani callose, che sono callose quasi come le nostre. Stiamogli vicino e aiutiamoli. Però gli anni passano e questo tipo di attività affidata solo alle sue spalle è gravosa. I parrocchiani se ne accorgono, gli parlano. Reverendo non può fare tutto lei. Noi cerchiamo di essere disponibili, ma lei ha bisogno sostanzialmente di una perpetua. Una perpetua che si contenterà dei pochi soldi che lei sicuramente può dare. Vada a cercarla. Le prestiamo il mulo e il carretto, faccio un giro dei paesi e veda cosa trova. Nel mio romanzo accenno ad alcune varie possibilità e ad alcune soluzioni che però non sono suffragate da nessun documento storico. Dopo qualche giorno Meslier, che ha oramai 33 anni, ritorna con una donna che ne ha 23. Ma Reverendo non è un po' troppo giovane. Le perpetue non dovrebbero avere più di 40 anni. Devono essere donne attempate per evitare che possano nascere cose e situazioni disonorevoli. Meslier si schernisce. È una cara cugina che ha bisogno di lavorare e di guadagnare anche i pochi soldi che riesco a pagare. Io sono un uomo di chiesa e a queste cose non devo neanche pensarci. Il problema è che finalmente non è più solo. Tra i due c'era evidentemente un'intesa positiva che forse era antecedente a questa loro conoscenza. La ragazza ha un'intelligenza vivida e è in grado di dialogare con Jeanne. Dopo oltre 30 anni di silenzio e di solitudine, finalmente parla e discute delle sue idee a voce alta con una ragazza decisamente preparata e intelligente. Ma le voci corrono. L'arcivescovo Charles Maurice Le Tellier viene disturbato da una serie di delazioni che partono dal signore del paese ma anche da tanti altri parroci del circondario. In queste lettere Meslier viene descritto come un orso che se ne sta appartato nella sua parrocchia, che non parla con nessuno e, come se non bastasse, da qualche tempo vive inconcubinato con una giovinetta. C'è una discreta corrispondenza su questo tema, ma l'arcivescovo non muove un dito, mette tutto a tacere e ignora le denunce lasciando tranquillo Meslier. D'altro canto i preti con relazioni sessuali o con amanti non erano una novità e quindi non facevano uno scandalo particolare, però era meglio ignorare il problema, soprattutto se gli eventi restavano sotto traccia. I provvedimenti punitivi erano spiacevoli per tutti e infangavano il buon nome della Santa Madre Chiesa. Facciamo finta di nulla. È in questi anni che il dialogo tra Meslier e la sua perpetua porta ad una risoluzione. Perché tutti questi appunti e tutte queste idee non le organizzi e non le metti in modo organico, qui sono disperse. Prova a scrivere un'opera organica e compiuta. Meslier si mette di buzzo buono, raccoglie tutti i suoi appunti, stende un programma operativo, stende una specie di indice di quest'opera e la chiamerà, con un titolo lunghissimo, memoria dei pensieri e dei sentimenti di Jean Meslier, prete e curato di Etre Pigny e di Balev, su una parte degli errori e degli abusi del comportamento del governo degli uomini, da cui si dimostrano in modo chiaro ed evidente le vanità e le falsità di tutte le religioni e di tutte le divinità, affinché sia diretto ai suoi parrocchiani, dopo la sua morte e per essere usata da loro e da tutti i loro simili, quale testimonianza di verità. È ovvio che questo titolo non poteva avere successo e difatti in modo postumo Voltaire, che mise le mani sul suo trattato, ne fece una rielaborazione, una riedizione semplificata e lo chiamò l'estratto dal testamento di Meslier. Ma ritorniamo alla vita quotidiana. In molti punti dice che svolgo le funzioni del mio ministero con estrema ripugnanza e con grande pena e ha la sensazione di imbrogliare quasi i suoi parrocchiani, perché le sue messe sono idolatri e superstiziose, perché amministra dei sacramenti che sono ridicoli. Però è costretto a tacere, sopporta questo fardello, se ne libera soltanto quando è chiuso nella sua canonica con la sua perpetua e continua così in questa vita di mistificazione, di silenzio e anche di sofferenza psicologica. Dopo un certo numero di anni questa ragazza decide evidentemente di farsi la sua vita e scompare. Solo che a questo punto la solitudine gli pesa abbastanza. Meslier si avvia ai 50 anni, cerca una seconda perpetua, la trova e ritorna in paese con una ragazza di 18 anni. E resterà questa ragazza, che probabilmente era altrettanto sveglia e intelligente, resterà con lui per almeno una decina di anni. È ovvio che anche qui nascono nuove polemiche, ma tutto finisce in niente. E continua questa scrittura notturna e quotidiana di questo suo trattato, di queste sue memorie, o di questo suo testamento, come diventerà poi importante, in cui esprimerà il suo pensiero sugli animali, sull'amore, sulla religione, sulla società soprattutto, sulla politica. E però questo è un discorso che tralasciamo ad una seconda parte. La vita prosegue in modo monotono. Meslier che arriva a 65 anni di età e si spegne tranquillamente nel suo letto. Ha fatto però in tempo a scrivere tutto il suo trattato di oltre mille pagine. Ha fatto in tempo a scriverne, ovviamente sempre a mano, una seconda copia e secondo alcuni studiosi anche una terza copia. La morte avviene nel 1729, tra il 29 giugno e il 7 di luglio. Nel suo trattato scrive «Quando sarà morto non mi interesseranno più negli scandali, negli anatemi, negli inevitabili scempi che faranno delle mie spoglie di ateo convinto. Che i sacerdoti, i predicatori, i dettori e tutti gli altri autori di tali bugie, errori e impostori si scandalizzino, si arrabbino quanto vogliono, ma dopo la mia morte. A quel punto che mi trattino, se vogliono, come un senza Dio, apostata, bestemmiatore e ateo. Che mi dicano pure così tanti insulti e così tanti maledizioni. Facciano pure, non mi preoccupo molto. Non mi darà la minima preoccupazione. Che facciano tutto quello che vogliono del mio corpo. Lo arrostiscano o lo friggano e lo mangiano in qualunque salsa. Io non me ne preoccupo». È una dichiarazione molto forte. Comunque lui è morto, i due parroci di due paesi vicini vengono chiamati, ricevono le lettere, due lettere sintetiche che Mesli ha lasciato per loro, e che esprimono in modo breve e conciso le sue opinioni religiose e politiche. E danno le disposizioni. Le disposizioni sono semplici. Dovete scrivere, dovete spedire le lettere che io ho scritto a tutti i parroci della regione, in modo che siano informati del mio pensiero. E dovete depositare questo mio testo negli uffici giudiziari di riferimento, nella cancelleria di riferimento. Ma Meslié già aveva fatto questo deposito di una copia. I due parroci sono sconvolti. Avvisano il monsignore, l'arcivescovo. L'arcivescovo non se ne preoccupa più di quel tanto, incarica un suo monsignore e gli dice di andare a vedere cosa è successo, che cosa hanno quei due lì, che devono semplicemente togliere di mezzo la salma di quel rompicoglioni che l'ha disturbato per così tanti anni. Questi due sono abbandonati a se stessi. Hanno depositato il trattato di Meslié negli uffici giudiziari, hanno spedito le lettere e del corpo non se ne sa più nulla. Non si sa dove viene sepolto e come viene sepolto. E tutto è finito lì. Perché negli uffici giudiziari tutto verrà sepolto, dal come il suo cadavere verrà sepolto dalla polvere dei secoli. Solo che all'epoca esisteva una letteratura clandestina molto fiorente, che tendeva a sfuggire al controllo politico e religioso. Veniva ovviamente ricopiata a mano ed era venduta a caro prezzo nei salotti europei d'avanguardia. Il sei anni dopo la morte di Meslié, il 30 novembre 1735, ecco una lettera di Voltaire in cui scrive a un suo corrispondente. Chi è questo prete di campagna di cui mi parlate? Ma bisogna nominarlo vescovo. Ma come? È un prete? È un francese? E sarebbe un filosofo grande come Locke? Ma inviatemi il manoscritto. Il manoscritto di Meslié ovviamente era stato ricopiato in qualche modo o era stato trafugato. Voltaire gli mette le mani sopra, lo studia, lo rielabora e lo trasforma in un estratto del testamento di Jean Meslié che è decisamente più leggibile, decisamente più facile da diffondere. E si sa dall'epistolario di Voltaire che questo manoscritto da lui rielaborato era in commercio a un costo di ben otto Luigi d'oro, che era una cifra considerevole. Però a Parigi ne erano state stampate almeno 100 coppie. Nel 1737 è noto a Londra, nel 1748 è noto a Berlino la corte di Federico II, nel 1760 compare una prima biografia di uno scrittore anonimo e nel 1786 è noto anche in Polonia. Nel 1793 con la rivoluzione francese si avvia una massiccia opera di decristianizzazione dello Stato e si riscopre Meslié e si propone addirittura di costruirgli un monumento ma poi la cosa finirà in nulla. Il testo vero e completo e quindi integrale fu pubblicato solo una volta in tre volumi nel 1864 ad Amsterdam. Dopo il 1876 e successivamente nel 1918 in Russia alcuni filosofi iniziarono degli studi seri mettendo in relazione la filosofia di Meslié col materialismo ateo di Karl Marx. Meslié giunse agli onori della filosofia grazie ad un filosofo marxista dell'epoca tale Abram Mjosevic Deborin che nel 1925 e poi successivamente nel 1937 pubblica diverse analisi e pubblica una versione ridotta del testamento che viene diffusa in migliaia di copie e diventerà il testo di riferimento per le scuole superiori e per le università dell'Unione Sovietica. Poi in Europa pian pianino negli anni successivi si avrà una certa ripresa di questo interesse nei confronti della filosofia di Meslié. In una prossima puntata parleremo meglio e più diffusamente del pensiero di questo purato. Grazie, se vi è piaciuto mettete un like e non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Aspetto i vostri commenti e i vostri suggerimenti per migliorare. Arrivederci.